La cosa finirà, finirà bene come dicono tutti, però quando non lo sa, non lo sappiamo, non lo so io assolutamente perché assolutamente no, ma credo che forse non lo sa nessuno nel mondo quando finirà questa cosa e io credo che la consegna a domicilio di tutto sia un mezzo per fermare le persone. Così la ristorazione ai tempi del coronavirus. Tra gli imprenditori che resistono attivando un servizio di consegna a domicilio in questo periodo di emergenza c'è anche la torretta a Sanzeno. Il ristorante infatti ha deciso di non fermarsi offrendo un servizio alle tante aziende della zona che restano ancora aperte. Dobbiamo secondo me potenziare ancora di più questo servizio. Se si muove una persona sola per accontentare tante persone è meglio che tante persone si muovano per accontentare ognuno se stesso perché comunque i bisogni ci sono. Siamo tutta gente che si tenta di lavorare in una situazione a dir poco difficile insomma. Per il momento il motto è quello di state a casa come si dice ad Arezzo. Secondo me è sbagliato perché ad Arezzo bisogna dire state in casa perché lo state a casa è quello che si dice quando ragazzi state a casa la prossima settimana che ha inteso la passeggiata la giratina. Invece non è proprio state a casa secondo me è state in casa che è una cosa leggermente diversa che un po' ci sfugge un po' è sfuggita insomma quindi però teniamo duro e tutto andrà bene.